In più alle 16 di oggi apriamo anche a un target importante, sono 30.000 con più di 16 anni che sono i centri estivi, i ragazzi di centri estivi, che peraltro alcuni molto onestamente mi hanno anche scritto in queste ore, mi hanno detto ma scusa Presidente ma devo prenotarmi nei centri estivi o perché ho 16 anni posso farmi anche il vaccino nel circuito normale? Fatelo dove adesso molti di questi ragazzi che fra l'altro su questa età qua 16, 17 magari hanno prenotato, hanno atteso, sanno che oggi si ritrovano i posti sui centri estivi. Insomma direi una bella roba, cioè si chiude centri estivi e operatori del turismo, andiamo verso una fase ricreativa covid free perché poi turismo e centri estivi. Vi dico anche che oggi c'è un bel dato che avevo da qualche parte.